Il 37% degli italiani che non sono andati a votare, più almeno il 4 o 5% degli italiani che hanno cagato sulla scheda elettorale, quindi almeno il 40% degli italiani, è pronto a farsi sentire, è pronto a scendere in piazza muto, riempendo milioni di persone che questa volta non hanno votato. Non si riempono più le piazze con le persone che fanno parte di un partito, ora si riempono le piazze con i milioni che sono circa 17-20 milioni di persone che non sono d'accordo nel farsi governare né dalla Meloni, né da Mario Draghi, né dal Movimento 5 Stelle, né da chi cazzo se lo porta. Questo è quello che questi signori devono temere, perché questo potrebbe succedere fra un mese come fra una settimana.